Questo programma contiene linguaggio volgare, un po' di sofferenza e scene che alcune persone potrebbero trovare offensive. Qua se qualcuno corre nel bianco lo vediamo subito. Che hai i zombie? Un stracholmo. Come sempre. Che. 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 Niente. Non ho visto nessuno. Eh sì c'è uno dietro da noi. A sinistra in fondo... Diato dalla città. praticamente a sinistra? si, si oltre questo bosco a sinistra non ho visto uno laggiù dritto così dietro la città praticamente nel campo? nel campo, esatto sta scendendo è sul lato, è sul lato è lì, è lì oltre questa collina un po' più a destra eccolo, eccolo no, il cazzo, aspetta, dov'è cazzo andato oh, da qualche parte eccolo, eccolo, eccolo dai, lo raffiniamo o no si, si si, si così rifiuta anche l'arma quella good guy, good guy ci penso io vabbè, fucilozzo fucilozzo, fucilozzo si che si fa? la lasciamo mutante? no no, io un'arma gliela piglio vabbè, c'è lì l'arma poi la maglia non c'è due pescate in messa però no, ho due pescate tutte io ah, la c'è ok allora, dicendo allora, digli di contare fino a 10 e poi può andare noi intanto andiamo via le lo sai dire tu in inglese? mmm ok, si ci provo ci provo dilli tipo ok, you can go ok, you can count 1, 2, 3, 4, 5 when you come to 10 you can go, ok? oh, si, ha capito bene tanto non può fare niente è fermo no, vai, vai, vai investilo no, sono sceso sono sceso di macchina investilo no, sono sceso sono sceso di macchina che figura di merda e non mi ha chiuso il cazzo di sportello guardalo è ancora legato è ancora legato lì non riesce a spregarsi il cazzo è rimasto lì quello è rimasto malissimo se ti fermi chiudo lo sportello perché qui mi si chiude l'unica è sempre ho 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 è sempre ho 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 via il cazzo dove ha Grazie a tutti.